ciao amici adesso oggi vogliamo fare una bellissima allenamento hard 10 20 30 proprio high interval intensity training proprio per aiutarci a bruciare tantissimi grassi tonificare tantissimi glutei perché usano tantissimo pliometria allora cominciamo con uno step touch perché dobbiamo riscaldarci prima di cominciare 10 secondi saranno al vostro massimale dovrete veramente dare il massimo in te stesso durante quei 10 secondi i 20 secondi invece è media intensità vuol dire se volete andare più lentamente di me si può ok sentite anche il vostro cuore mettete anche un cardiofrequenzimetro tenete sotto controllo del vostro battito cardiaco i 30 secondi invece saranno di recupero puro un recupero proprio per recuperare il fiato in questo allenamento che si chiama high intensity interval training heat ok che scientificamente provato di dare tantissimi risultati proprio per bruciare i grassi così noi entriamo in questa fase di marzo dedicato proprio a ritrovare la forma fisica il diciamo il corpo perfetto per fare diciamo il proprio costume abbiamo ancora tre minuti 51 secondi per riscaldarci cominciamo con una mini squat per favore una mini squat cominciamo a far si dice get your juices flowing in inglese che vuol dire far fluire al meglio la linfa il vostro ritorno linfatico il vostro ritorno venoso riscaldando quei muscoli ok piccolo sumo squat teniamo su piccolo ancora 8 7 6 e 5 4 3 e 2 e 1 e porta il braccio in avanti ok proprio riscaldare tutto il corpo ci mancano ancora tre minuti grande grande intensità qua questo è un lavoro prettamente aerobico 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 però talmente intenso che riusciamo a fare questo lavoro bene lo faremo la parte integrante le cinque minuti più due minuti di recupero tre volte ok così io lo faccio la prima volta che poi andrà ripetuto per il totale tre volte sarà 21 minuti di lavoro ok se diventa 21 minuti troppo difficili cominciate con le prime sette minuti poi la seconda volta se sei intermedio lo puoi fare due volte e se sei avanzato puoi fare proprio e tutto i 21 minuti più e 5 minuti di riscaldamento per fare un bel allenamento brucio grassi tirici quella ginocchia due minuti e venti proprio per cominciare ok continuiamo i nostri movimenti saranno di scatto saranno tipo da maniac corsetta schippetto jumping squat questi squat mi piacciono tantissimo perché quando facciamo i squat aiutano l'atto B tantissimo ancora due minuti continuiamo ok e portate il braccio in avanti e spingo uno contro l'altro uno contro l'altro come se stessi facendo una gara con te stessi con te stessa spingendo sempre su quella braccia ok continuiamo otto sette sei cinque un quattro tre anche giate e vai un po di gen fonda portiamo un po di gen fondi indietro ci piacciamo dai cuore 93 secondi ok 93 secondi fino a entrare nella parte più attivo di questo lavoro tenetevi sempre un po di acqua vicino a voi non abbassate la testa sotto il cuore quando il cuore sta battendo tantissimo l'altra cosa che ho bisogno è che non vi sedete ok quando noi abbiamo finito il nostro lavoro dobbiamo dare il tempo al cuore a recuperare e questo vuol dire con saggezza circolare circolare quelle braccia grandi circoli grandi circoli ancora quattro tre due e uno cambiamo braccia vai come se stessi facendo come si stessi facendo come si chiama nel nuoto questo come si chiama nel nuoto vai continuiamo non lo so non me la stanno aiutando dietro di telecamera allora dai delfino grazie mi hanno dato l'aiuto ancora ok step touch ancora step touch ancora fra 30 secondi primo scatto il primo scatto sarà una corsettino sul posto velocissimo 10 secondi dopodiché jump squat per 20 secondi poi ricopreremo ok 20 secondi piccola linea pronti per partire pronti per lavorare pronti per spaccare ok 7 minuti 5 minuti on 2 minuti giù faremo abdominali e poi torneremo ok ultime 5 secondi 4 3 prima 10 secondi corsa tira 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 tie dai usa quelle gambe usa le gambe più veloce possibile ok 3 2 1 jump squat ok divarico poco poco le punte le ginocchia seguono le punte dei miei piedi continuate dai spiego piego e spingo piego e spingo 8 secondi tutti voi dietro quella telecamera fatelo con me continuate 2, 1 30 secondi di recupero facciamo un po' di braccia respira se è necessario bere un po' di acqua bevete un po' di acqua ok continuiamo 9 secondi la prossima la prossima è la nostra maniac 2, 1 vai maniac vai 10 secondi usa le braccia usa le braccia usa le braccia dai ragazzi 5 secondi vai 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 2, 1 ok and sumo squat 20 secondi bravi ragazzi bravi ragazzi continuate grande spinta fino al talone 10 secondi ancora e saremo a 2 minuti ricordate sono sempre 5 minuti on 2 minuti off 2 1 bravi ok spingete le braccia dietro di voi muovetevi sempre le gambe muovetevi sempre le gambe spali indietro dai tutti quanti continuate respira la terza il terzo esercizio sarà schipettino le genocchi devono venire su ok ancora 5 4 siete già a metà strada ragazzi metà strada su 10 secondi su 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 tiro di 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 su uno ok jump squat jump jack squat apro e chiudo e apro e chiudo come on apro fondo sui taloni affondo sui taloni 10 secondi siamo a quasi 3 minuti ricordi che sono 5 scatti 2 minuti off 5 scatti 2 minuti off 1 step touch ti ho detto che è brucio grassi ok respira tantissimo respira e recupera respira e recupera ancora respira e recupera bravi ragazzi 14 secondi ti do un bel off dobbiamo ritornare fare i nostri ultimi due scatti scatto plio ricupero scatto plio ricupero ok ve la sentite ok corsa dai 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 corsa dai 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 più veloce possibile 3 2 1 ok slalom side to side ok slalom side to side vai 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 20 secondi affondo sui taloni busto in avanti le ginocchia seguono sempre la punta dei piedi continuate dai 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 slalom slam 3 2 siete quasi a 4 minuti 4 4 è andato ci manca solo uno ma sentite è un lavoro veramente intenso però la cosa bella delle nostre HIIT è che ci permette di avere molto più e meno tempo ok così ultime 15 secondi ottimo scatto facciamo una maniac bella forte e poi faremo un jump twist siamo pronti ultime 5 secondi ultima volta facciamo due minuti di recupero maniac ora maniac maniac uso i piedi apri e chiudi uso i piedi apri e chiudi dai 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 3 2 1 e jump twist giù giù 3 quarti 3 quarti 20 secondi respira se dovete rilentare rilentate ma non vi fermare perché ultimi 10 secondi e poi c'è un recupero di 2 minuti così per chi si sente più avanzato si può ok relax 30 secondi servono questi 30 secondi per ridurre il battito cardiaco prima che andiamo a fare gli addominali ok respira se tu sei principiante puoi fermarti qua invece se sei intermedio aggiungi un altro blocco di 7 minuti e poi invece se siete avanzati un altro ancora ok scendiamo giù ragazzi ok 2 minuti di recupero per i nostri addominali ok scendo giù e salgo su e scendo giù e salgo su l'importante è qua e proviamo di non mettere la testa sotto il cuore abbiamo 2 minuti di recupero in questi 2 minuti di recupero dobbiamo continuare a muoverci non dobbiamo fermarci e non dobbiamo abbassare la testa sotto il cuore ok minuto 43 ricordate sono blocchi di 7 minuti di lavoro ancora 2 ancora 1 ok su e su ok come ho modificato bicicletta bicicletta modificata se ti dà fastidio potete fare così con i gomiti a terra ok dai 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 continuiamo dai 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 continuiamo 8 7 6 5 4 3 2 1 ancora 8 7 6 5 4 3 2 3 and dai dai mettiti su un gluteo su e giù ci siamo all'ultimo minuto poi andiamo sul nostro secondo circuito chi è pronto? chi dice basta G per me oggi basta questo va benissimo ti interrompi il primo circuito 42 secondi 42 secondi datemi ancora 5 4 3 2 cambia gamba dall'altra parte incrocio vai su continuiamo 31 secondi l'ultimo 10 secondi useremo per ritornare in piedi per ricominciare il prossimo circuito ancora 12 secondi su questo lato addominali sono in angolatesi testa rimane sempre sopra il cuore l'altezza del cuore molto importante 13 12 11 10 torniamo in su e prepariamoci per il nostro prossimo circuito fra 3 2 1 parti corsa tira 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 dai usa quelle gambe usate le gambe più veloce possibile ok 3 2 1 jump squat ok divarico poco poco le punte le ginocchia seguono le punte dei miei piedi continuate dai spiego piego e spingo piego e spingo 8 secondi dai 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 tutti voi dietro quelle telecamere fatelo con me dai 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 continuate 2 1 ok 30 secondi di recupero facciamo un po' di braccia respira se è necessario bere un po' di acqua bevete un po' di acqua dai 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 ok continuiamo 9 secondi la prossima la prossima è la prossima la prossima è la nostra maniac 2 1 vai maniac vai 10 secondi usa le braccia usa le braccia usa le braccia usa le braccia dai ragazzi 5 secondi vai 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 2 1 ok super squat 20 secondi bravi ragazzi bravi ragazzi continuate grande spinta fino a talone 10 secondi ancora e saremo a 2 minuti ricordate sono sempre 5 minuti on 2 minuti off 2 1 bravi ok spingete le braccia dietro di voi muovetevi sempre le gambe muovetevi sempre le gambe spalle indietro dai tutti quanti continuate respira la terza il terzo esercizio sarà schipettino le genocchi devono venire su ok ancora 5 4 siete già a metà strada ragazzi metà strada su 10 secondi su 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 tiri di su tiri di su tiri di su 1 ok jump squat jump jack squat apro e chiudo e apro e chiudo come on apro fondo sui taloni a fondo sui taloni 10 secondi siamo a quasi 3 minuti ricordi che sono 5 scatti 2 minuti off 5 scatti 2 minuti off 1 step touch ti ho detto che è brucia grassi ok rispira tantissimo rispira e recupera rispira e recupera ancora rispira e recupera bravi ragazzi 14 secondi ti do un bel off dobbiamo ritornare fare le nostre ultime due scatti scatto plio ricupero scatto plio ricupero ok ve la sentite ok corsa dai 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 corsa dai 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 più veloce possibile 3 2 1 ok slalom side to side ok slalom side to side vai 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 20 secondi a fondo sui taloni busto in avanti le ginocchia seguono sempre la punta dei piedi continuate dai 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 slalom slam 3 2 siete quasi a 4 4 4 è andato ci manca solo uno ma sentite è un lavoro veramente intenso però la cosa bella del nostro heat è che ci permette di avere molto più e meno tempo ok così ottimo 15 secondi ottimo scatto facciamo una maniac bella forte e poi faremo un jump twist siamo pronti ottimo 5 secondi ultima volta facciamo due minuti di recupero maniac ora maniac maniac uso i piedi apri e chiudi uso i piedi apri e chiudi dai 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 3 2 1 e jump twist giù giù 3 quarti 3 quarti 20 secondi respira se dovete rilentare rallentate ma non vi fermate perché gli ultimi 10 secondi e poi c'è un recupero di 2 minuti così per chi si sente più avanzato si può ok relax 30 secondi allora servono questi 30 secondi per ridurre il battito cardiaco prima che andiamo a fare gli addominali ok respira se tu sei principiante puoi fermarti qua invece se sei intermedio aggiungi un altro blocco di 7 minuti e poi invece se siete avanzati un altro ancora ok scendiamo giù ragazzi ok 2 minuti di recupero per i nostri addominali ok scendo giù e salgo su e scendo giù e salgo su l'importante è qua e proviamo di non mettere la testa sotto il cuore abbiamo 2 minuti di recupero in questi 2 minuti di recupero dobbiamo continuare a muoverci non dobbiamo fermarci e non dobbiamo abbassare la testa sotto il cuore ok minuto 43 ricordate sono blocchi di 7 minuti di lavoro ancora 2 ancora 1 ok su e su ok come ho modificato bicicletta bicicletta modificata se ti dà fastidio potete fare così con i gomiti a terra ok dai 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 continuiamo dai 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 continuiamo 8 7 6 5 4 3 2 1 ancora 8 7 6 5 4 3 2 and dai mettiti su un gluteo su e giù ci siamo all'ultimo minuto poi andiamo sul nostro secondo circuito chi è pronto chi dice basta giù per me oggi basta questo va benissimo ti interrompi il primo circuito 42 secondi datemi ancora 5 4 3 2 cambia gamba dall'altra parte incrocio vai su continuiamo 31 secondi l'ultimo 10 secondi useremo per ritornare in piedi per ricominciare il prossimo circuito ancora 12 secondi su questo lato addominali sono rimangono attesi testa rimane sempre sopra il cuore l'altezza del cuore molto importante 13 12 11 10 torniamo in su e prepariamoci per il nostro prossimo circuito fra 3 2 1 parti corsa tira 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 dai usa quelle gambe usate le gambe più veloce possibile ok 3 2 1 jump squat ok divarico poco poco le punte le ginocchia seguono le punte dei miei piedi continuate dai spiego piego e spingo piego e spingo 8 secondi dai 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 tutti voi dietro quella telecamera fatelo con me dai 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 continuate 2 1 ok 30 secondi di recupero facciamo un po' di braccia respira se è necessario bere un po' di acqua bevete un po' di acqua dai dai ok continuiamo 9 secondi la prossima la prossima è la nostra maniac 2 1 vai maniac vai 10 secondi usa le braccia usa le braccia usa le braccia usa le braccia dai ragazzi 5 secondi vai 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 2 1 ok and super squat 20 secondi bravi ragazzi bravi ragazzi continuate grande spinta fino a talone 10 secondi ancora e saremo a 2 minuti ricordate sono sempre 5 minuti on 2 minuti off 2 1 bravi ok spingete le braccia dietro di voi muovetevi sempre le gambe muovetevi sempre le gambe spali indietro dai tutti quanti continuate respira la terza il nostro terzo esercizio sarà schipettino le genocchi devono venire su ok ancora 5 4 siete già a metà strada ragazzi metà strada su 10 secondi su 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 tiri di su tiri di su uno ok jump squat jump jack squat apro e chiudo e apro e chiudo come on apro fondo sui taloni affondo sui taloni 10 secondi siamo a quasi 3 minuti ricordi che sono 5 scatti 2 minuti off 5 scatti 2 minuti off uno step touch ti ho detto che è brucio grassi ok respira tantissimo respira e recupera respira e recupera ancora respira e recupera bravi ragazzi 14 secondi ti do un bel off dobbiamo ritornare fare le nostre ultime due scatti scatto plio recupero scatto plio recupero ok ve la sentite ok corsa dai 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 corsa dai 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 più veloce possibile 3 2 1 ok slalom side to side ok slalom side to side vai 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 20 secondi affondo sui taloni busto in avanti i ginocchi seguono sempre la punta dei piedi continuate dai 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 slalom slam 3 2 siete quasi a 4 minuti 4 quarto è andato ci manca solo uno la sentite è un lavoro veramente intenso però la cosa bella delle nostre HIIT è che ci permette di avere molto più e meno tempo ok così ultime 15 secondi ottimo scatto facciamo una maniac bella forte e poi faremo un jump twist siamo pronti ultime 5 secondi l'ultima volta facciamo due minuti di recupero maniac ora maniac maniac uso i piedi apri e chiudi uso i piedi apri e chiudi dai 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 3 2 1 e jump twist giù giù 3 quarti 3 quarti 20 secondi respira se dovete rallentare rallentate ma non vi fermare perché ultimi 10 secondi e poi c'è un recupero di 2 minuti così per chi si sente più avanzato si può ok relax 30 secondi servono questi 30 secondi per ridurre il battito cardiaco prima che andiamo a fare gli addominali ok respira se tu sei principiante puoi fermarti qua invece se sei intermedio aggiungi un altro blocco di 7 minuti e poi invece se siete avanzati un altro ancora ok scendiamo giù ragazzi ok 2 minuti di recupero per i nostri abdominali ok scendo giù e salgo su e scendo giù e salgo su l'importante è qua e proviamo di non mettere la testa sotto il cuore abbiamo 2 minuti di recupero e in questi 2 minuti di recupero dobbiamo continuare a muoverci non dobbiamo fermarci e non dobbiamo abbassare la testa sotto il cuore ok minuto 43 ricordate sono blocchi di 7 minuti di lavoro ancora 2 ancora 1 ok su e su ok come una modificata bicicletta bicicletta modificata se ti dà fastidio potete fare così con i gomiti a terra ok dai 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 continuiamo dai 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 continuiamo 8 7 6 5 4 3 2 1 ancora 8 7 6 5 4 3 2 and dai mettiti su un gluteo su e giù ci siamo all'ultimo minuto poi andiamo sul nostro secondo circuito chi è pronto chi dice basta giù per me oggi basta questo va benissimo ti interrompi il primo circuito 42 secondi datemi ancora 5 4 3 2 cambio gambe dall'altra parte incrocio vai su continuiamo 31 secondi l'ultimo di 10 secondi useremo per ritornare in piedi per ricominciare il prossimo circuito ancora 12 secondi su questo lato addominali sono rimangono tesi testa rimane sempre sopra il cuore l'altezza del cuore molto importante 13 12 11 10 torniamo in su eccellente ragazzi allora avete fatto un lavoro pazzesco avete visto sono veramente tanti 21 minuti di questo lavoro è pesante lo so però questo è hard perché siamo a now un ordinary workout questo è un allenamento dedicato ad allenarvi come se foste in palestra ok così sono vostro personal trainer voi siete la mia amatissime clienti della mia palestra virtuale vi voglio bene vi aspetto domani con un altro allenamento o magari anche fra 3 minuti con un altro allenamento e spero che passate comunque una giornata ricca della soddisfazione di dire ce l'ho fatta l'ho fatto questo allenamento a massimo della mia potenza e vi aspetto domani sempre con altri sorrisi e altri allenamenti qui su now baci dalla Jill grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti